Pietro Borghini, Presidente della Formica. Pietro, la Formica è presente alla seconda edizione della Biennale di quest'anno qui a Bologna. In quali seminari hai partecipato, soprattutto che differenze hai trovato fra la prima edizione Genova e questa? Ma questa mi sembra che sia una edizione più matura, quindi che ha raccolto un po' le criticità di Genova e le ha portate a regime rendendo la Biennale più fruibile, quindi anche gli spazi, i tempi e i modi sono stati organizzati in maniera diversa. La Formica ha deciso di partecipare iscrivendosi singolarmente ma portando poi il suo contributo principalmente dentro i due consorzi che poi hanno aderito che sono i consorzi Den Rete che è comunque cofondatore di tutto il processo della Biennale. Tra l'altro Gianfranco Marocchi, ex Presidente di Den Rete, è ancora co-direttore della Biennale e ha fatto un ottimo lavoro come sempre. In più abbiamo, e quindi con i Den Rete, ha organizzato un seminario a cui abbiamo partecipato stamattina sui migranti, più anche ha fatto il giorno prima della Biennale la sua assemblea annuale qui proprio a Bologna per facilitare la partecipazione dei soci di Den Rete e della Biennale stessa. Poi anche attraverso il CSR, abbiamo aiutato il CSR nell'allestimento della mostra che è stata elaborata e prodotta da CSR nell'ultimo anno sul tema della diversità e il lavoro e quindi abbiamo con la Diana, grazie alla Diana, anche presenziato la mostra. Dentro la mostra è stato fatto anche stamattina il convegno della Rete 14 luglio che è comunque una Rete nata proprio attraverso la Biennale da Genova 2015 che ha concretizzato poi anche durante questa seconda Biennale un suo workshop alla mattina e oggi pomeriggio abbiamo fatto anche l'assemblea dei soci della Rete su un tema molto importante che è quello del welfare aziendale. Esatto, oggi pomeriggio appunto avete parlato di tantissime cose, la necessità dei lavoratori, il codice etico, come ti sembra che sia andato l'assemblea di oggi e soprattutto il percorso che ha fatto questa associazione da quando è nata, appunto è nata nell'allio della Biennale, della prima edizione della Biennale fino adesso? L'associazione penso che mantenga l'entusiasmo dei primi giorni di quando ci siamo visti a Genova è subito dopo un mese a Milano in cui abbiamo tracciato la voglia di stare insieme. Ci si vede ormai ogni 3-4 mesi in certa occasione in maniera strutturale come la Biennale oppure quando c'è il comando a Rimini, quindi c'è questa attenzione anche dei territori. Fra l'altro abbiamo deciso che il prossimo incontro sarà a Napoli, posto in cui non abbiamo mai fatto un incontro, abbiamo fatto incontro anche a Brescia, a Torino, quindi c'è da una parte star vicino ai soci locali ma anche per aumentare la conoscenza, ma l'altra la voglia comunque sempre di vedersi. La cosa positiva che anche in questa occasione della Biennale, comunque anche oggi pomeriggio erano più di 30 persone, quindi la partecipazione è rimasta molto alta. Le cooperative che più si spendono sono sempre presenti, altri soggetti che magari hanno aderito hanno perso un po' l'entusiasmo, però direi che il gruppo proponente resta intatto e ha una gran voglia di fare. Oggi abbiamo affrontato due temi importanti, uno welfare aziendale, anche se, vista anche la presentazione della norma, direi che c'è un'intenzione molto forte di comunque andare veramente a dare una risposta ai bisogni dei nostri soci lavoratori, senza pensare all'aiuto economico o la scontistica che può permettere una legge dello Stato, perché comunque abbiamo scoperto anche in una prima indagine che tutte le nostre cooperative, mettendo al centro la persona e il socio lavoratore, cercano di fare un welfare aziendale attivo. Poi è chiaro che l'aspetto fiscale, l'aspetto normativo ci potrebbe aiutare. L'altro grande tema, che è un tema che era nato già la discussione addirittura quando andavamo a fondare l'associazione Rete 14 Luglio, poi abbiamo lasciato un po' da parte proprio perché è un tema molto complesso, è la definizione di una carta etica che diventa stringere un patto anche per iscritto fa noi, ma soprattutto anche una cartina di torna su e da presentare all'esterno quando qualcuno si avvicina a questa rete e fargli capire con chiarezza quali sono i nostri principi rinunciabili e quali sono anche dei principi su cui stiamo lavorando per cercare di raggiungere e mantenere una rete forte basata su dei sani valori della cooperazione ma anche dei principi etici che sono comunque la base del nostro agire. Quindi una rete che sta sia sul lato delle cooperative che lavorano nell'ambiente ma però che si confronta su tematiche che non sono solo legate all'ambiente, ma per la formica quanto è importante stare in una rete di questo tipo a livello nazionale? Allora, proprio perché i temi possono essere temi globali per certi versi ma poi locali, nel senso che il tema che dicevo prima del welfare aziendale è il tipico esempio perché poi si può respirare qui un'area e anche raccogliere esperienze di welfare aziendale sviluppate in tutta Italia e quindi la formica stessa può portare a casa nel suo bagaglio anche delle esperienze che poi può applicare nel suo territorio e per la sua realtà e questo confronto con altre realtà anche magari più consolidate o con una storicità maggiore della formica aiuta sempre i più piccoli o quelli che sono, voglio dire, nati dopo a crescere ma a crescere su una strada già ben lineata degli altri. In più c'è il confronto che anche se oggi è stato toccato poco ma che resta il vero collante che è il tema dell'ambiente. Teniamo presente che tutti i partecipanti alla rete 14 luglio hanno come attività principale l'attività nell'ingegno ambientale e quindi c'è un confronto su un tema che è il principale lavoro di tutti noi che oggi va difeso, mantenuto, è sicuramente incrementato visto che lo facciamo bene, ci permette di fare molti inserimenti lavorativi e speriamo nel futuro di continuare a vederci per, voglio dire, dimostrando che ancora siamo su questo mercato siamo stati in grado di mantenerlo e di incrementarlo. Perfetto, grazie mille.